Buongiorno amici, nuova giornata, nuovo remix. Mi ricordo che addirittura a me mi dicevano all'inizio quando sono rimasta incinta e mi hanno detto Sei rimasta incinta? No! E come hai fatto? Ma vuoi sapere la posizione? Quando io sono rimasta incinta al mio fidanzato a nove mesi di inferno gli ho fatto passare. Amore ho caldo, amore ho freddo, amore ho tiepido, amore ho sete, ti vado a prendere l'acqua perché per nove mesi sono apprensivi. Poi non gliele fotte più niente, ti vado a prendere l'acqua. No grazie, no l'acqua no. Un cedro della Patagonia. E chi dopo attivava a Patagonia? Ma se lo meritano, se lo meritano. Allora, quando mi si sono rotte le acque, momento delicatissimo però da donna perché sa che sta per partorire quindi grande emozione, il fisico che si stravolge, vado dal mio fidanzato e dico amore mi si sono rotte le acque. E lui? Ma sei sicura? Anche il giorno del parto, no? A noi ci succede di tutto, le dolie, le contrazioni, il cambio della respirazione, tutto a noi, no? Anche in quel caso loro una cosa sola devono fare, accendere la telecamera e quando tu dopo che hai finito tutto gli dici hai ripreso? No, hai venuto troppo emozionato. Tu eri emozionato? Il mio è ripreso per tre ore e quarantacinque, il soffitto della sala a parte. Era svenuto. Ci vediamo domani.